Oggi, ragazzi, direzione Germania. Praticamente ci aspettano otto ore di viaggio. I cocci aspettano perché non sarò solo. Ora stiamo andando a prendere Mattia. Tra l'altro sarà con un mezzo molto molto familiare, quindi fate attenzione. E non vi nascondo che non vedo l'ora di provarlo perché l'ha tirato fuori veramente dà paura. Poi vi dirò tutto nel corso del video. Piccola pausa, ragazzi, in Austria. Facciamo due foto in mezzi. Peccatevi che forno. Poi ditemi voi se preferite K o Honda, perché sono due mezzi veramente dà paura. Sono dell'idea che quando uno sa Honda vuole K e quando uno sa il K vuole l'onda, sempre così. Cascatina. Wow. Location 10. Siamo ripartiti, ragazzi, e volevo dirvi, venite in Austria in moto perché guardate che strade. dà paura veramente. C'è le robe da full gas. Eccolo. Non c'è neanche una buca. Ale. Qua invece si lavora. Già sul pezzo lì con le foto. Come sempre. E ora ci mancano ancora tre ore a destinazione. Con calma arriviamo. Ragazzi, non andate nei sushi in Germania. Non esiste all you can eat e praticamente un piatto di nigiri. Non ho fatto il video purtroppo. 41 euro. 10 pezzi 41 euro. Cioè veramente portatevi lubrificante. A volontà proprio. Questo qua è il centro, ragazzi. Germania, così. Mezzi potenti. Ci siamo, siamo arrivati, ragazzi. Hotel prenotato dai Grenz. Vediamo cosa ci aspetta. Oh, ma è la stanza 126 ma non so se dobbiamo salire o scendere. Allora, aspetta, facciamo una premessa. La reception? Fighissimo. Ora vediamo. Gasatissimo. Gasatissimo. Per sicurezza ho preso l'acqua. Perché si sa mai che magari... Dove andiamo? Fai strada. Sono già gasato. Pronti? Faccio io la... La cosa, eh. La room tour. Vai. Room tour. Facciamo già... Facciamo già l'accento. Vai. Vado? Vai. 3... 2... 1... Ragazzi dai Grenz, ragazzi. Vediamo cosa ci aspetta. Una carta. Bella, madonna. Bella, madonna. È normale. Lusso, ragazzi. Lusso. Lusso, lusso. Guarda, è stato un bigliettino. Wow. Però non vedo patti, vabbè. Ma niente. Ma te dove dormi? Io direi... Ti lascio il tavolino te. Va bene? Puoi distendere i piedi lì. Wow, ragazzi. Stanza da paura. Veramente. Tanto che non te la voglio. vediamo se c'è il frigobar. Cosa c'è? Non c'è nulla, non c'è nulla. Vediamo, vediamo. Frigobar. Fu. Nada. Per fortuna che ho preso l'acqua, ragazzi. Non c'è il frigobar, niente. Aspetta, levati dal cazzo, ragazzi. Eh, va bene, va bene. Se è andata bene così. Via. Esci. Aspetta, aspetta che adesso vado avanti io. Adesso, ragazzi, doccetta. Adesso doccetta e poi si andrà a dormire. Ma ci vediamo domani. Ma ci vediamo domani. Non ci credo. Si è chiuso fuori. Voleva fare il terzo room tour. Questa qua è la vita da influencer. Oh, chiudi il furgo dopo, eh. Continuiamo col vlog qua, ragazzi. Vi faccio già un piccolo spoiler della nuova collezione. No, no, no. Oh, vecchio. Ha detto di non farle vedere. Buono, buono. Uscirà dopo questo video, forse. E, niente, vi faccio vedere che super mezzo che hanno i Grands. Beccatevi che roba. Cioè, questo qua è proprio un mezzo da car porn. Ve lo zoom. Si. Wow. Quanto figo, ragazzi. Ma quanto figo. Nero opaco così, tanta roba. È già sul pezzo qua, ragazzi. Oh, eh. Vai, facci sentire un po' il vento, dai. Oh, oh. Ci stanno già insultando. Stanno già insultando. È un grande, ragazzi, lui. Beccatevi. Ha uno stile tutto suo. Ma si vede la paperella che ha sul braccio? Yeah. È tutto quello. Ha un po' a morire. È un po' a morire. Ma si vede la piglia, non sai da fare come il fatto il fatto questo. È un po' a morire. Che 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 era il riuscito? È un po' a morire. È un po' a morire? Che che giocava. Alla prossima. È un po' a morire? È un po' a morire. È un po' a morire. Come si vede l'euro a riuscita. Ciao Sous-titres par Juanfrance 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 Sous-titres par Juanfrance